Liberi consorzi, Presidente, c'è ancora speranza per passare a Catania? Proprio libero sceglie tutte queste città, un po' di libero consorzio, che forse si fa bene, 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 che forse si fa bene. Visto che la prima commissione ha bocciato questa decisione, il governo adesso cosa può fare? Guardate, il governo può portare avanti questa cosa nel momento in cui viene approvata già il Parlamento, perché è una legge, non è un prodigio di amministrazione, è un Parlamento nazionale. Io ripeto, forse in tre mesi si riesce a fare un nuovo corsozio, lavoriamoci. Forse in tre mesi si riesce a fare un nuovo corsozio, lavoriamoci.